numero 5 le logitech g 635 7.1 laz y nc sono cuffie di qualità eccellente perfette per gli appassionati di gaming dotata dell'illuminazione rgb e di un design monocolore dall'aspetto accattivante offre un comfort eccezionale unito a una qualità audio nitida e corposa amplificata dalla tecnologia 7.1 dts headphone x2 il microfono a flip to mute è chiaro e riesce a filtrare i rumori ambientali sono presenti vari controlli e tasti sul padiglione sinistro utili per la gestione delle impostazioni con una buona vestibilità e la possibilità di essere collegate a qualsiasi altro dispositivo sono le cuffie da gaming per qualsiasi utente se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 4 le turtle beach elite pro 2 sono un paio di cuffie da gaming cablate di alta qualità disponibili in due versioni nera per playstation e pc e bianca per xbox e pc sono dotate di due connettori uno per il microfono ad asta ed uno per il cavo a ux il vero plus delle cuffie sono però le compatibilità con il super amp che permette di connetterlo mediante usb a un dispositivo o una console e di utilizzare una connessione bluetooth per gestire e bilanciare l'equalizzatore e attivare speciali modalità di ascolto e di chat i driver da 50 mm l riescono a coprire un ampio range di frequenze da 12 hertz a 20 kilo hertz distinguentosi per un suono avvolgente potente e dettagliato se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 3 le hyper x cloud secondo wireless rivoluzionano il gaming grazie al loro design classico colorazione rosso e nero ed eccellente qualità dell'audio con il loro peso ridotto e telaio in alluminio queste cuffie vengono giudicate come uno dei migliori modelli per qualsiasi piattaforma grazie ai loro driver da 53 mm audio avvolgente cristallino e bilanciato è assicurato mentre con la tecnologia audio surround 7.1 l'esperienza diventa più realistica e immersiva è anche possibile regolare il volume e il microfono a livelli ottimali con una luce led che indica quando il microfono è silenziato connettendosi wireless all'unità a 2,4 gigahertz avremo una portata fino a 20 metri consentendoci di non essere limitati da lunghi cavi trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 le turtle beach stealth 700 gen 2 max sono una cuffia da gaming top di gamma che promette performance di alto livello compatibili con xbox ps5 ps4 pc nintendo switch o qualsiasi dispositivo smartphone o tablet tramite bluetooth 5.1 sono progettate per garantire durata comfort e prestazioni audio in game impeccabili dotate di cuscinetti in memory foam refrigerante e driver di 50 mm con una risposta in frequenza da 20 hertz a 22 kilohertz queste cuffie offrono suoni ricchi e dettagliati con bassi incisivi e un volume anche molto alto il microfono omnidirezionale è flip to mute e trasmette suoni chiari ai compagni di squadra per un'esperienza piacevole e senza interruzioni durante i match puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 per chi non ha limiti di budget le steel series arctis nova pro wireless sono l'opzione migliore come cuffie da gaming il design tipico della linea arctis è in nero opaco ed elegante con padiglioni ovoidali e imbottiture in tessuto traspirante grazie all'archetto in acciaio imbottito e alla fascia secondaria e regolabile troviamo una vestibilità perfetta i driver in neodimio da 40 mm offrono una risposta in frequenza da 10 hertz a 40.000 hertz riproducendo un'alta risoluzione audio pulito e profondo inoltre compatibile con l'audio tempist 3d di playstation 5 vengono inoltre forniti con un sistema di cancellazione del rumore e un microfono ad asta retrattile con funzione noise cancelling ottimizzato per restituire la voce più chiara e naturale possibile acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione